Stavano scappando da un'offensiva del governo regolare iracheno. Almeno 250 combattenti dell'ISIL sono rimasti uccisi in un raid aereo statunitense vicino a Fallujah. La colonna militare del sedicente Stato Islamico comportava alcune decine di veicoli. Il comandante dell'aviazione irachena Hamid Atiyah al-Maliki ha detto Abbiamo distrutto più di 138 veicoli e ucciso tutti quelli che erano a bordo. I sopravvissuti hanno lasciato sul posto i morti e preso con loro alcuni feriti. Con questa operazione abbiamo spezzato la schiena al terrorismo. I shiadisti in fuga si stavano probabilmente dirigendo verso una zona vicina al confine con la Siria, ancora sotto il controllo dell'ISIL. Dopo due anni di occupazione da parte degli estremisti islamici armati, le truppe regolari irachene avevano ripreso il controllo di Fallujah domenica.